Scelgo Rapture. Una città in cui un artista non debba temere la censura. Dove lo scienziato non sia limitato da ridicoli moralismi. Dove il grande non venga confinato dal chicco. E col sudore della vostra fronte, Rapture può diventare anche la vostra città. Non so, vai parola molto dalle fiamme. Sembrerebbe un incidente aereo. Passiamo nel bel mezzo dell'oceallo Atlantico, come... Non ne ho idea, voglio darsi una mossa e all'asfelta. E le compilenti stanno male con me. Come fai a sapere che stai? Vanno qua, vanno qua, vanno qua, vanno qua, vanno qua i pali, vanno qua, vanno qua! Che è? Che c'è una battisfera in discesa, significa che abbiamo compagnia.